Ciao, puoi sentire le nuove frequenze di luce nelle tue mani? Si tratta di un nuovo livello vibratorio a cui oggi è possibile accedere grazie al cambiamento vibrazionale che il pianeta Terra sta vivendo in questa epoca speciale. Ebbene, oggi è possibile accedere a nuovi livelli di energia, luce ed informazione. Questa nuova energia può portare beneficio nel tuo essere in tantissimi livelli conosciuti e sconosciuti, in particolar modo a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale, laddove tu hai più bisogno. Lascia che mi presenti, il mio nome è Rossella Pani ed insegno alle persone come accedere a questo campo di luce ed informazione, come interagire con le frequenze. Insegno alle persone semplicemente il riequilibrio energetico. Vuoi imparare anche tu questa modalità straordinaria? Sai che anche tu puoi fare le stesse cose che faccio io? Ti mostrerò come funziona, ma prima vorrei svelarti uno dei tre segreti sconosciuti al 97% degli operatori, olistici o facilitatori del riequilibrio energetico. Ebbene, caranima infinita, il segreto è la protezione psichica e fisica, la protezione in tutti i livelli che molti operatori non conoscono e non utilizzano. La protezione è fondamentale affinché durante il processo di riequilibrio energetico e entrambe le parti, il facilitatore e il ricevente, possono accedere solo al campo di luce ed informazione accedendo alle frequenze più elevate in assoluto, senza assorbire i pesi energetici dell'altro. Quindi accedere al campo di luce con una protezione ti consentirà di far sì che ti sentirai al meglio nel trasmettere le energie e la persona che riceverà le frequenze avrà solo ed esclusivamente esperienze di amore, di gioia, di pace, di bellezza, ok? Lascia che ti mostri come funziona, ok? Inizieremo con una breve preghiera di protezione e poi ti mostrerò, ti farò sentire le frequenze nelle tue mani. E sì, vedrai, riuscirai a sentirle, ti chiedo però di sintonizzarti, di ascoltare col tuo sentire e di non utilizzare la mente razionale. Datti il permesso di goderti questa esperienza, non preoccuparti, è un lavoro protetto. C'è la protezione dell'arcangelo Michele. Iniziamo. Ti chiedo con amore, Arcangelo Michele, di tagliare tutte le corde egoiche di paura, di rabbia, di gelosia, di competizione, di giudizio dell'ego. Liberaci dall'ego, liberaci dalla paura, liberaci dalle energie di bassa frequenza. Aiutaci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo luce, amore, pace, bellezza, riequilibrio, grandezza e luminosità. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie all'intera coscienza amicaelica, è fatto, è fatto, è fatto e così è e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Il lavoro di protezione con l'Arcangelo Michele è determinante negli insegnamenti che io porto sul riequilibrio energetico. Ora ti chiedo di mettere la tua mano destra o sinistra, fa poca differenza, magari quella che ti viene più comoda, ok? Al centro dello schermo, ok? Lasciala così al centro dello schermo, sia che tu hai un cellulare, sia che tu hai un pc, ok? O un tablet. Ora io inizierò a trasmetterti le nuove frequenze di luce, ok? Se sei un po' razionale, chiudi gli occhi e rimani ad ascoltare, a sentire con un senso diverso. Ok? Potresti sentire calore, aria fresca, scrivi nei commenti cosa senti, mi farebbe tanto piacere. Potresti sentire l'agopuntura, potresti sentire delle onde, delle vibrazioni, un'espansione in tutto il corpo, energie di amore, di pace. Ora, espandiamo le frequenze. Scommetto che l'energia si sta espandendo e tu senti maggiormente le frequenze. Ebbene, questa non è solo energia, questa è luce di informazione. Si espande con la distanza, a differenza di tutte le modalità energetiche fino ad oggi conosciute. E per questo è una nuova energia, un'energia più potente. Riesci a sentire l'espansione? Ok, se non hai sentito niente, non preoccuparti, riproviamo. Secondo giro diventa più potente, ok? Ok? Ok, dimmi se si espande adesso. Riesci a sentire la differenza? È più forte, è più leggero? Scrivi nei commenti, sono veramente curiosa di sapere cosa senti. E se non senti niente, non preoccuparti, può succedere all'inizio, riprova un'altra volta. Vedrai che le nuove frequenze di luce si manifesteranno anche a te, perché siamo tutti connessi e tutti abbiamo accesso alla luce e alla nuova energia. Ok? Bene, spero che ti sia piaciuto interagire con le nuove frequenze di luce. Ebbene, questo è solo un assaggio. Volevo informarti che ho creato un video training completamente gratuito, dove spiego quelli che sono i 4 segreti sconosciuti al 97% dei facilitatori del riequilibrio energetico e quelli che sono i 5 errori commessi dagli operatori olistici. Informazioni molto importanti se tu operi nel settore olistico. Informazioni che non trovi da nessuna parte, ma che trovi solo da connessioni angeliche. Verrà anche presentato alla fine del video training il mio corso di 9 settimane, dove insegno alle persone come connettersi con le nuove frequenze di luce. Se sentirai la chiamata nel tuo cuore, non esitare a contattarmi, perché comunque ci faremo una chiacchierata e se questo percorso è per te, io sarò felice di accoglierti nella mia classe. Io vi saluto, un abbraccio, a presto, ciao ragazzi!